Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video unboxing di Gustabox Nel mese di giugno, questa volta non ce la siamo spoilerata Infatti siamo proprio così a scatola chiusa Andiamo ad aprire, vai Tutte cose che dico sempre, io non ci collaboro, giù nel libro box troverete un link Questo link vi verrà rilasciato anche a voi con il primo ordine Comunque se c'è questa, tramite questo link, voi risparmiate sulla vostra prima box Quindi la pagherete 9,99 euro comprese di spese di spedizione Invece di pagarla 16 euro e a me accreditano 50 punti Ma normalmente in cui voi pure date il vostro link ad amici e parenti e qualcuno lo acquista Succedeva la stessa cosa anche a voi Prima blu è sciuto, vai chiedogli Ok, va Buon di molta Ok Meno 30% di grassi rispetto alla media 22 ore di lievitazione naturale Eccoli qua Molta Anche se questi non mi sono mai No, questi zuccherini sopra Ok, vai Adesca Cos'è? Ultimamente spesso queste cose Le lenticchie che sono? Aspetta E' un qualcosa francese comunque Suppongo che sia tipo le lenticchie già pronte da cuocere No C'è anche la cipolla e le carote Chissà se è un piatto Bello e grande Già pronto da poterselo riscaldare Vabbè c'è pure un quale raccocere Non lo so Ok Comunque E' una bella Ci sta Bel padellone Aspetta E' un po' Non lo so Oh Sicco il riso Senza lattosio Riso scotti Biscotti Multicereale Fibra Con le fibre Ci sono Gocce di cioccolato Eccolo qua Spiziosi La vedo un po' Quasi finita Mentos Vitamina B6 C B12 Arancionessa Io penso si è finita No No Ma come Si è finita Però è veramente molto misera Esta tè infusion mix Menta e limone Questa me l'avremmo già provata l'anno scorso Lo sai Beh l'anno scorso mi ha fatto una scopra C'è la mente e il limone No Menta no Mi sembra che no Vabbè vi dico già che secondo me ci sarà un po' di video recensione misto Perché se la metto quattro ore è impossibile la fare No c'è Ma è tutta roba piccolina Pocket coffee Espresso to go summer edition Non so qual è la differenza Ne sono tre E' con la cannuccia E' con la cannuccia Che tu metti cosa così No E lo sai perché? Perché i cioccolatini Si sciolgono Si sciolgono No vabbè Questo è da provare Assolutamente Lo proviamo questo su TikTok E poi pubblico anche qui nei t-shirt E' il caffè alla fine Buah è fizioso Adoro Vai Birra Birra Birrificio Angelo Poretti Non filtrata Lupoli 4 Quattro lupoli Hai quattro lupoli Mi non dà c'è Allora della Pedon Sono legumi fatti a snack Tostate non fritti Sono morici Un po' scarsina Ah aceto Aceto balsamico di Modena Mini taglia Bellina Questo è buono pure se devi andare al mare Mazzetti Te lo porti Veramente sempre se siete qui Fatti Che rega Ho visto che la netto porta l'aceto a fes Mazzetti Questa ora Etichetta già la sua Amazon Perché è uno sconto del trend E' plastica Sì sì Poi è piccolissimo 20 ml Oh ma sarà felice Poi Sì sì Meno male che la prospina Questa mi ispira tanto Martini L'aperitivo Con il gin Con il No Ah Fire e tonic Wow Io sto avviso Ho il sale Ho il sale Un'altra volta Sale Sale grigio dell'Atlantico Dalle antiche saline dell'isola di Re Scusa ma non ci arrivo già Uguale Mi ricordo se era questo Gemma di mare Io già ne ho visto Sale Ah C'è un'altra cosa di fare Si trova in Francia Isola di Re Wow Un po' scontenta Ci aspettavamo molto Qualcosa più estiva E quindi non c'è nessuna Novità No Qui è la novità del mese Allora Pocket Coffee 2,29 L'estate 0,99 Mentos 3,49 Birra 1,39 L'aceto balsamico 5,90 Però Prezzo per la bottiglia Da 250 ml I biscotti Riso scotti 2,49 Il sale 2,99 Pedon Legumi 0,99 I bondi Motta 2,19 Martini 2,99 Il prodotto extra sorpresa Penso che siano le lenticchie Ah E poi C'è questo qua Il prodotto extra sorpresa Che è il valore medio Di circa 2 euro Un prodotto Questo mese per voi Un prodotto a sorpresa Di una marca straniera No Ci so Ok Quella è la settimana Il mese scorso Di maggio Era molto più bella Spero che qualcuno di voi Sia riuscita comunque A prenderla E niente Ovviamente Li proveremo insieme Questi prodotti Ci sarà Ma non Solamente qualche vlog Sicuro Magari un vlog Sì E quindi nulla Noi speriamo Che questo video Vi sia piaciuto E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao Ciao